Onorevole, si è appena concluso il convegno triangolo di memoria alle deportate politiche e razziali. Cosa l'ha colpita di più di queste donne italiane deportate nei lager? Innanzitutto il fatto che hanno ricordato questo pezzo di storia è un pezzo di storia non conosciuto, inedito. Il primo convegno sul lager di Ravensbruck in Europa è stato il 1994, si è tenuto. Questa assenza a volte o comunque affuscamento della memoria secondo me è uno dei motivi per cui questo convegno ha avuto una sua validità di essere qui nel Parlamento che è l'istituzione massima della rappresentatività del popolo italiano. E alla vigilia delle celebrazioni del 2 giugno abbiamo sentito la necessità di raccontare e di raccontarlo ai giovani perché voglio far presente che c'erano quattro istituti di media superiore ma anche di media inferiore romani oggi presenti nella sala della regina che hanno assistito con grande attenzione al racconto e alle testimonianze di queste donne deportate alcune novantenni che con grande lucidità ci hanno raccontato la loro storia. Erano quindicenni quando furono portate in quel lager, molte di loro furono utilizzate per i lavori della Siemens, patirono gli stenti, il freddo, la fame. Di 132.000 donne che dal 1939 al 1945 furono rinchiuse in questo lager conosciuto come l'inferno delle donne, solamente 40.000 sono rientrate, le altre sono tutte morte. Per questo motivo ho presentato un disegno di legge che prevede l'istituzione del settantennale, quest'anno ricorre il settantennale della resistenza e della liberazione perché quei valori su cui si fonda la nostra carta costituzionale, la più bella carta del mondo, il nostro paese, la nostra repubblica, non siano soltanto memoria ma siano ancora produttivi di valori perché quei giovani presenti oggi siano i responsabili futuri della difesa del baluardo delle istituzioni democratiche, come allora quelle donne, quindicenni.